Musica 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 Yes Musica 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 bravo Davide bravo Davide, una foto Davide bravo 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 Cioè, al di là di queste sono le due storie, non soltanto già conosci, produttivi, ma anche morali, più vuoto, più zai, il territorio, il letto e il lavoro stesso, che francamente non muovono anche i nuovi uomini. Quando io ho iniziato, trattenendo nelle qualità le storie delle persone semplici, su quelle fuori casche che sembravano un po' di portare un po' di versati, perché bisognava, a sinistica, un giro di lavoro, per adottare le sue ricerche di montare, tutto quello che poi facevamo, la tanta economia, la deriva, il carro, il vero e il tempo, non lo vediamo più sull'altro. Io ho detto che la impressione di quando che vuoi partire ogni giorno, perché ogni giorno ci troveranno davanti che dice che quando lo fanno il reno avrò un modo funzionario e invece all'inizio per poter tornare fa funzionare una cosa che abbiamo distrutto da un momento fa più grande avrò, un re, un taglio mio, perché non mi voglio vedere sono gli utili di scuola e la possibilità di utopia costituzione anche per un mila, anche per quanto all'elio e tutto il reno sta attorno all'elio c'è un miglio per trovare una barca e io conosco tanti che sono i due mausi e che si deve essere con i simbolinari, con i simbolinari con la barca, con la barca, con la barca e con i servizi di scuola sono negli per partire e abbiamo visto la differenza ci sono negli per contribuire speranze e tutti voi ci vedete qua davanti il loro lavoro è il mio padre da solo grazie a tutti, grazie grazie